Vita spirituale, vita comunitaria, vita di studio e vita apostolica. Sono i quattro pilastri che Papa Francesco ha indicato alla comunità del Pontificio Seminario Regionale Pugliese, Pio XI, ricevuta in udienza. Nel discorso pronunciato a braccio, il Pontificio ha insistito sulla formazione dei futuri sacerdoti che solo coltivando l'equilibrio di questi fattori potranno davvero seguire l'esempio di Gesù, evitando di essere fonte di scandalo, la cui regola una quota alta nella borsa dei media. Portando l'esempio di un sacerdote che aveva il telefono sul proprio comodino e di una suora, suor Bernadetta, una vera madre spirituale, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti di essere sempre vicini al tabernacolo e di essere capaci di esprimere vicinanza alle persone, con pazienza e spirito di servizio. Vicinanza alla gente. E vicinanza vuol dire pazienza, vuol dire bruciare la vita, perché, diciamo la verità, il santo popolo di Dio stanca, eh? Stanca. Ma che cosa bella è trovare un sacerdote che finisce la giornata stanco e che non ha bisogno delle pastiglie per andare a dormirsi bene, eh? E quella stanchessa sana del lavoro, di dare vita agli altri, e continuamente al servizio degli altri. Grazie. 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 Grazie.